Il tema sanità è un tema scottante non solo per i cittadini e le scelte strategiche dei vertici regionali ma ad essere incandescente è anche il clima tra i lavoratori. Oggi alle 10 nella sede di area vasta 1 in via Ceccarini a Fano le sigle sindacali ed i rappresentanti dell'RSU hanno incontrato oltre 300 dipendenti dell'azienda per denunciare le ripercussioni economiche negative sulla busta paga di infermieri, sanitari, amministrativi e tecnici per la decisione univoca dell'area vasta 1 di sospendere le erogazioni delle parti variabili dello stipendio anche in modo retroattivo relative agli anni 2015 e 2016. Un augurio di buone feste e niente male per i lavoratori che dopo l'assemblea nella quale le sigle hanno comunicato l'interruzione delle relazioni sindacali con l'azienda si sono ritrovati davanti alla sede per un sit-in di protesta. 80-90 euro a persona e noi abbiamo chiesto un confronto all'azienda sul tema, non c'è stato dato, quindi abbiamo convocato in detto all'assemblea, organizzato il presidio, minacciato lo stato di agitazione con conseguente comunicazione al prefetto e siamo stati convocati per lunedì prossimo con il mandato che ci ha conferito l'assemblea. In quella sede chiederemo ancora con maggior forza la necessità di sbloccare questa situazione per riconoscere quanto dovuto ai dipendenti. Parliamo di un bacino di 1.700 dipendenti disrogati un po' su tutto il territorio dell'area vasta, quindi parliamo di dipendenti che non sono solo nel comprensore di Fano ma Cagli, Urbino, in tutto il territorio provinciale, quindi anche in posti molto disagiati che ogni giorno cercano di coprire con la propria responsabilità, il senso di dovere, i posti di lavoro per dare erogare servizi sanitari ai cittadini. Progressioni! Progressioni! È una battaglia anche di principio, di concetto che volete portare avanti? Certamente, questa è una battaglia di dignità sociale. Stiamo parlando di lavoratori che mediamente percepiscono 1.400 euro al mese, ben al di sotto dei lauti stipendi dei super manager regionali, stipendi che sono mediamente inferiori alla media europea, di lavoratori che tutti i giorni portano avanti il sistema sanitario nazionale rispondendo molto spesso anche ai disagi creati stesso dal servizio e dalle mancanze di servizi. Non riconoscere questa adeguata retribuzione è mortificare nell'anima questi dipendenti e l'ordignità professionale. Vorrei dire che a nome di tutti i lavoratori che siamo stanchi di queste prese in giro da parte dell'azienda, vederci sempre disattese tutte le promesse fatte e adesso basta. Il ricorso al contenzioso sindacale è stato un passo obbligatorio per voi? Sì, sì.